Nella seconda stagione della serie televisiva Endless Love, il pubblico viene immerso in una sequenza di eventi drammatici che alterano profondamente le relazioni all'interno della famiglia Setsin. La trama si addensa e si carica di tensione con la tragica scomparsa di Ozan e Under, figure fino ad ora centrali e fondamentali nella narrazione. La loro morte improvvisa non solo crea un vuoto emotivo difficile da colmare tra i membri della famiglia, ma diventa il catalizzatore di una serie di sfide che mettono in discussione la solidità e l'unità familiare. Queste perdite tragiche scuotono le fondamenta stesse della famiglia Setsin, spingendo ciascun personaggio a confrontarsi con il proprio dolore in modi che non avevano anticipato. Mentre alcuni trovano nella tragedia la forza di riconciliarsi e di cercare redenzione, altri si lasciano sopraffare dal risentimento e dalla disperazione. Le relazioni, precedentemente solide, iniziano a mostrare crepe sotto il peso dell'angoscia e del lutto, rivelando segreti a lungo sepolti e verità nascoste che complicano ulteriormente il quadro emotivo. In questo contesto di dolore e incertezza emergono nuove alleanze e vecchi rancori si riacutizzano, delineando un percorso incerto per i protagonisti. La sfida per i Setsin diventa non solo quella di superare il lutto, ma anche di reinventarsi come famiglia, cercando di mantenere l'unione nonostante le forze che sembrano volerli dividere. La resilienza di ciascuno viene messa alla prova in modi che richiedono non solo forza personale, ma anche un profondo senso di perdono e comprensione. Parallelamente, la serie esplora temi di colpa e redenzione, ponendo i personaggi di fronte alle conseguenze delle loro azioni passate. Ogni scelta fatta in passato riecheggia nel presente, influenzando il corso degli eventi in maniere spesso inaspettate. Mentre cercano di navigare tra queste turbolente acque emotive, i personaggi sono costantemente chiamati a bilanciare desideri personali e responsabilità verso ghigli altri, in un tentativo di ristabilire l'armonia perduta. La seconda stagione di Endless Love promette di essere un viaggio emotivamente intenso e ricco di sviluppi narrativi che costringono gli spettatori a riflettere sul vero significato di famiglia, amore e sacrificio. Con una narrazione che intreccia dramma personale con intricati dilemmi morali, questa stagione si prefigge di lasciare un'impronta indelebile nel cuore degli spettatori, portandoli a interrogarsi su cosa significhi veramente superare le adversità e trovare la pace dopo la tempesta. In questo contesto di dolore e incertezza emergono nuove alleanze e vecchi rancori si riacutizzano, delineando un percorso incerto per i protagonisti. La sfida per i set scene diventa non solo quella di superare il lutto, ma anche di reinventarsi come famiglia, cercando di mantenere l'unione nonostante le forze che sembrano volerli dividere. La resilienza di ciascuno viene messa alla prova in modi che richiedono non solo forza personale, ma anche un profondo senso di perdono e comprensione. Parallelamente, la serie esplora temi di colpa e redenzione, ponendo i personaggi di fronte alle conseguenze delle loro azioni passate. Ogni scelta fatta in passato riecheggia nel presente, influenzando il corso degli eventi in maniere spesso inaspettate. Mentre cercano di navigare tra queste turbolente acque emotive, i personaggi sono costantemente chiamati a bilanciare desideri personali e responsabilità verso gli altri, in un tentativo di ristabilire l'armonia perduta. La seconda stagione di Endless Love promette di essere un viaggio emotivamente intenso e ricco di sviluppi narrativi che costringono gli spettatori a riflettere sul vero significato di famiglia, amore e sacrificio. Con una narrazione che intreccia dramma personale con intricati dilemmi morali, questa stagione si prefigge di lasciare un'impronta indelebile nel cuore degli spettatori, portandoli a interrogarsi su cosa significhi veramente superare le adversità e trovare la pace dopo la tempesta. Questi tragici avvenimenti costringono i personaggi a confrontarsi con le loro paure più profonde e con il dolore che pervade le loro esistenze, spingendoli a riflettere sul significato del legame familiare e sui valori che hanno sempre dato per scontati. La famiglia Sezzin, un tempo unita, si trova ora di fronte alla sfida di ricostruire su macerie emotive, cercando di trovare un nuovo equilibrio. Le conseguenze di queste tragiche perdite non solo si fanno sentire all'interno del nucleo familiare Dei Sezzin, ma attraversano anche i confini personali, toccando amicizie e la comunità circostante in modi profondi e spesso inaspettati. L'impatto emotivo si estende a ogni individuo legato ai protagonisti, portando con sé una catena di reazioni che modifica le interazioni quotidiane e le percezioni reciproche. Mentre ogni personaggio della serie si imbatte nel proprio cammino di redenzione e scoperta personale, la comunità intera risente delle onde d'urto della loro trasformazione. Gli amici e i vicini, Dei Sezzin, testimoni delle sofferenze e dei cambiamenti, iniziano a riflettere sulle proprie vite e sulle proprie scelte. Questa fase di riflessione collettiva alimenta una serie di storie parallele nella narrazione, ognuna delle quali esplora temi come la resilienza umana, il perdono e la ricerca di nuovo significato dopo eventi capovolgenti. Le vicende di Ozan e Önder, così drammatiche e decisive, funzionano come un catalizzatore per un esame di coscienza generale. Molti personaggi si trovano a dover riconsiderare cosa significhi realmente l'amore, il supporto e la fedeltà, quando il fondamento della loro esistenza viene scosso dalle radici. Ne emergono dialoghi carichi di emotività e decisioni che mettono in luce la complessità delle dinamiche umane. In questo contesto, la serie Endless Love non si limita a raccontare una storia di intrighi e segreti, ma diventa un'esplorazione più ampia delle risposte umane al dolore e alla perdita. Il viaggio di ogni personaggio diventa simbolo di una lotta universale contro le avversità, illustrando come il dolore possa essere trasformato in forza e come le ferite più profonde possano, con il tempo e la cura, iniziare a guarire. Attraverso questi intricati percorsi di vita, la serie si propone di lasciare al pubblico non solo momenti di intrattenimento, ma anche importanti riflessioni sulla natura umana, sulle relazioni e sulla capacità di superare anche gli ostacoli più difficili. Gli spettatori vengono quindi invitati a immergersi in queste storie, trovando riscontro nelle proprie esperienze e forse, attraverso il medium televisivo, a trovare una forma di catarsi e di ispirazione per i propri cammini personali. In questo contesto di cambiamento e incertezza, la serie esplora temi come il perdono, la resilienza e la capacità di andare avanti nonostante il dolore. Gli sceneggiatori tessono una narrazione complessa che delinea come le esperienze traumatiche possano trasformare profondamente gli individui, spingendoli a riscoprire se stessi e le loro relazioni con gli altri. Con la seconda stagione di Endless Love ci troviamo dunque davanti a una narrazione che, oltre a intrattenere, invita gli spettatori a riflettere sulla capacità umana di affrontare le avversità e sulla possibilità di rinascita dopo la perdita. Mentre la serie procede, il pubblico rimane in attesa, sperando che i personaggi possano trovare pace e felicità attraverso le prove che il destino ha scelto per loro, offrendo così una storia ricca di emozioni e di lezioni di vita. Il dolore e la perdita improvvisa di due persone così importanti serviranno da catalizzatore per un riavvicinamento fra Vildan e Leila, le cui relazioni erano state tese e conflittuali per anni a causa di antichi rancori e segreti mai completamente risolti. La morte di Önder e la tragica fine di Ozan apriranno una crepa attraverso la quale le due sorelle potranno finalmente guardarsi negli occhi e rivedere le loro priorità e affetti. Nel cuore della tragedia, Leila si mostrerà sotto una nuova luce, quella di una sorella amorevole e premurosa, decidendo di prendere l'iniziativa per sanare il legame con Vildan. Capendo il profondo dolore che Vildan sta vivendo, Leila si recherà in ospedale, dove Vildan è ancora sotto shock per offrirle il sostegno di cui ha disperatamente bisogno in questo momento di estrema vulnerabilità. Il viaggio di ritorno a casa diventerà un momento di condivisione e di relazioni intime. Leila ascolterà con il cuore aperto le angosce e i rimpianti di Vildan, che si confiderà con lei tra le lacrime, lasciando emergere anni di dolore represso. Vildan parlerà della perdita inaccettabile del marito e del figlio, esprimendo il suo dolore e la sua disperazione. In queste circostanze estreme, l'abbraccio fra le due sorelle diventerà un simbolo potente di riconciliazione e di supporto reciproco. Questo momento di fragilità e di umana comprensione segnerà un punto di svolta nella loro relazione. La tragedia, per quanto devastante, servirà a ricucire lo strappo che per troppo tempo aveva diviso Leila e Vildan, aprendo la strada a una nuova fase di comprensione e di vicinanza emotiva che potrebbe trasformare profondamente entrambe. Le vicende della famiglia Sezzin continuano a dimostrare come, anche nei momenti più bui, possa nascere una speranza e come il supporto affettivo possa rivelarsi fondamentale per superare anche le prove più dure. Cosa ha portato alla morte di Hozan e Önder? La tragedia ha colpito duramente la famiglia Sezzin. Hozan, già in carcere per l'omicidio di Linda e per aver tentato la fuga all'estero, è stato trasferito in ospedale a causa di un avvelenamento. Invece di ricevere l'aiuto necessario, Hozan sceglierà di porre fine alla sua vita, lasciando dietro di sé molti interrogativi e un mistero che il commissario Hakan cercherà di risolvere. Tra gli effetti personali di Hozan, Hakan troverà una fotografia che potrebbe essere la chiave di molti segreti, inclusa la sua decisione estrema. Önder, devastato dalla morte del figlio, subirà un fatale attacco di cuore dopo averlo trovato senza vita. Questo doppio lutto lascerà un vuoto incolmabile nella famiglia Sezzin. Riconciliazione tra Leila e Vildan. Il ritorno di Leila sarà un faro di speranza per Vildan. Dopo averla recuperata dall'ospedale, Leila si occuperà di creare un ambiente accogliente e familiare per la sorella, sperando di alleviare il suo dolore. Ho preparato la casa per te, pulito il patio con acqua di lavanda e sistemato le lenzuola di raso che tanto ami, dirà Leila, mostrando un'affettuosità e una cura che non si erano viste per anni. In un momento di estrema tristezza e bisogno, le due sorelle si abbracceranno, condividendo il dolore per la perdita di Önder e Ozan. Leila, con dolcezza, incoraggerà Vildan a tornare a casa, sottolineando che nonostante il dolore, la vita deve andare avanti. Il motivo della loro lontananza? Questo tragico evento fungerà da doloroso promemoria per Leila e Vildan, riportando alla luce le cause della loro divisione decenni orsono. La loro frattura era nata quando Önder, all'epoca fidanzato con Leila, aveva intrapreso clandestinamente una relazione con Vildan. Questo legame proibito non solo aveva tradito la fiducia di Leila, ma aveva anche portato alla nascita di due bambini, Nihan e Ozan, i cui destini si sarebbero intrecciati irrevocabilmente con le vicende familiari. Il giorno delle nozze di Leila e Önder, quando il segreto era stato finalmente rivelato, aveva segnato un punto di rottura definitivo. Leila, colpita e tradita, era stata lasciata sola all'altare, un'immagine che aveva impresso nel suo cuore una ferita profonda e dolorosa. Nel corso degli anni, il rimorso e il senso di colpa avevano pervaso la vita di Vildan, che aveva sempre saputo che il suo errore aveva distrutto non solo la sua relazione con la sorella, ma aveva anche spezzato il cuore di Leila in modo quasi irreparabile. Questo evento luttuoso, tuttavia, porta entrambe le sorelle a riflettere sul passato e sul dolore condiviso, offrendo loro una possibilità non solo di ricordo, ma anche di riconciliazione. La morte di Önder, così come la perdita di Ozan, serve come un duro richiamo alla realtà per entrambe, spingendole a considerare il valore del perdono e la possibilità di rinnovare il loro legame spezzato. In un momento di estrema vulnerabilità, Leila e Vildan si ritrovano a confrontarsi non solo con il lutto per le perdite subite, ma anche con l'opportunità di guarire le vecchie ferite, ricomponendo un rapporto che il tempo e i segreti avevano eroso. Questo periodo di riflessione e di eventuale riavvicinamento potrebbe significare un nuovo inizio per Leila e Vildan, che potrebbero trovare nel loro dolore condiviso la forza di superare le barriere del passato e di ricostruire una relazione basata su nuove fondamenta di comprensione e di rispetto reciproco. La tragedia, così profondamente intrecciata nelle loro vite, potrebbe così trasformarsi in un catalizzatore per il cambiamento e la crescita personale, mostrando che anche dai momenti più bui può scaturire una nuova luce. Dopo decenni di distacco, la tragedia e il conseguente sostegno reciproco apporteranno una guarigione nelle loro vite, permettendo a Leila e Vildan di superare il passato e di guardare insieme verso un futuro di comprensione e supporto reciproco. Cosa pensi di queste morti? Pensi che stia diventando simile a terra amara? Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni su Endless Love.